Luca Pieragnoli, questa sera con l'Austria è arrivata la seconda vittoria, un successo importante per il prosieguo del cammino in questo europeo. Sì, i successi fanno sempre bene, ogni giorno a prescindere dall'avversario è sempre bello rimettersi in gioco, cercare di migliorare il gioco e mi sembra che stasera, a prescindere da chi avevamo davanti, abbiamo fatto delle buone trame, ci sono state buone, belle azioni, belle giocate quindi chiaramente siamo contenti perché ogni giorno c'è un pezzettino in più che riusciamo a mettere in questo mosaico. Adesso cominciano gli impegni veramente più importanti e speriamo di continuare su questa strada, io vedo delle ragazze convinte, fiduciose come lo sono anch'io perché vedo che chiunque vada in campo sta rispondendo in una maniera ottimale, dando qualità e quindi questo fa bene alla squadra, fa bene a tutti noi. Domani scena Serbia? Eh, domani c'è la Serbia e giocheremo con la Serbia, non è che dobbiamo aggiungere altro è come se volessimo dire, beh oggi avevamo un avversario più semplice, sì è vero, domani ce l'abbiamo uno più importante è la stessa cosa, lo sappiamo, l'importante è che riusciamo a giocare come vogliamo e soprattutto che ci divertiamo che andiamo in campo con quell'idea lì di prenderci le nostre responsabilità, avere la voglia di osare, delle giocate perché credo che questa cosa poi alla lunga dia sempre qualche risposta positiva e nient'altro. Grazie. 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 Grazie.